Il comune di Montoro e Albomano avrà un'uscita autostradale sulla 24 Roma-Teramo, un progetto finanziato per 5 milioni di euro nell'ambito del contratto istituzionale di sviluppo del centro Italia per assicurare la ripresa e lo sviluppo dell'economia e delle aree colpite dai terremoti 2016-2017. L'intervento da realizzare riguarda il raccordo tra il tracciato autostradale a 24 Roma-Teramo e la viabilità provinciale SP-491 che poi si collega alla viabilità della statale SS-150. Permetterà di rilanciare tutta la nostra zona artigianale, la zona industriale dove ci sono aziende che in totale fatturano 200 milioni di euro ma è un rilancio di tutto il territorio. Io ringrazio il ministro Carfagna e il presidente Marsilio che hanno creduto in questo progetto presentato dal comune di Montoro e insieme alla provincia di Teramo, ci hanno aiutato, supportato e grazie. Era un progetto atteso credo da decenni, forse da 40 anni, la 24 avrà l'uscita Montorio al Vomano ed è un rilancio della montagna, Montorio hub ma verrà valorizzato Prato Selva, Prato di Tivo, Pietra Camela, Fanadriano, Crognaleto. Ecco tutti i comuni che negli ultimi anni hanno visto una desertificazione dove gli abitanti da migliaia di persone sono diventate poche decine a volte e nel migliore dei casi poche centinaia. Questa è anche una prova di una politica che ha una visione e una strategia. Il finanziamento non è andato al comune di Montorio, questi sono fondi CIS, il governo ha finanziato l'ANAS che avevamo indicato insieme alla provincia come ente attuatore. Quindi c'è un progetto che è stato riqualificato, un vecchio progetto, tra l'altro portato avanti da un sindaco storico di Montorio, Ugonori, che io ringrazio perché quando aveva un incarico istituzionale in provincia aveva lasciato un lascito di questo progetto decine di anni fa. Noi l'abbiamo riqualificato, presentato, oggi è finanziato e siamo subito al lavoro con l'ANAS, ente gestore dell'autostrada, per trovare nei prossimi mesi la quadra, i raffinamenti ultimi del progetto e poter arrivare finalmente all'uscita autostradale Montorio-Alvomano, che deve essere un orgoglio non solo dei montoriesi ma di tutto il territorio. Questi sono progetti che sono stati premiati per la loro celerità. Io credo che nel giro di 24 mesi Montorio possa avere la sua uscita autostradale.